Musica La toponomastica femminile è stata al centro di un lavoro svolto da 5 classi del polo Franchetti Salviani di Città di Castello, aderenti ad un progetto proposto da Ampi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e Spici GL con la partecipazione dell'amministrazione comunale di Fernate. Obiettivo riscoprire e valorizzare il contributo offerto dalle donne alla Costituzione della società, anche attraverso la toponomastica intitolando loro vie, piazze e altri luoghi pubblici. D'ora in poi la città potrà avere delle vie che ricordano sindacaliste, partigiane e madri della Costituzione, grazie proprio al progetto curato dai ragazzi del Franchetti Salviani, polo che già in passato aveva dato un nome alle rotonde della pretella pecchiese. Una ricerca fatta da alcune classi di questa scuola che riguardano le donne, in particolare donne che hanno fatto la resistenza e donne sindacaliste, perché questo studio che è stato fatto è stato promosso sia dall'Arci che della Spici GL, quindi donne sindacaliste e donne partigiane. Quindi questa mattina vedremo, e ancora non sappiamo chi sono, quali sono le figure femminili che questi giovani hanno individuato come meritevoli di studio, anche perché poi questo lavoro sfocerà nella intitolazione di un luogo, può essere un giardino, una rotonda, una via, appunto a queste donne. Quindi un lavoro molto molto importante. Questo progetto nasce dall'idea di Liliana Mascolo, che è la coordinatrice delle donne del sindacato pensionati CGL e naturalmente dal lavoro dei ragazzi e delle ragazze. È un grosso progetto, loro si sono appunto soffermati a visionare tutta la torponomastica di città di Castello e hanno visto la presenza, diciamo, delle figure femminili, a parte le madonne, le sante, eccetera, che quello è ovvio, normale che ci siano, assolutamente limitata. Avevano già fatto un progetto importante sulle scienziate, quindi le rotonde che sono qua vicino, ma adesso faranno delle proposte molto importanti su parchi, eccetera, e soprattutto di figure di sindacaliste e anche, ovviamente, come penso Lampi avrà già detto, di partigiane. E quindi, diciamo, oggi ci presenteranno il loro progetto che poi andrà in comune e spero che l'amministrazione comunale sia sensibile e accolga in tempi brevi queste loro proposte. Lavorare con i ragazzi e con le ragazze è fantastico e ciò dimostra che quando si danno delle cose concrete dei progetti ci sono le risposte e sono piene di ideali e di, come dire, di impegno importante. Grazie a questa scuola, grazie ai loro professori e ai dirigenti, ma soprattutto grazie agli studenti e alle studentesse. A Città di Castello, hanno ricordato i ragazzi, solo il 5% delle strade è intitolato a donne contro un 56% di vie dedicate agli uomini. Nello specifico, ricordano gli studenti, le isolazioni femminile, sono tre strade aletterate, 16 a figure religiose o sacre, una a scienziata, una ad un artista, due a benefattrici laiche e sei a figure storiche e politiche. Proprio partendo da queste donne, su Input di Liliana Mascolo, ex docente attualmente coordinatrice delle donne dell'ospici GL, i ragazzi hanno voluto prima effettuare uno studio sulle sindacaliste, sulle partigiane. Da qui poi prenderà il via alla proposta di intitolare una strada a una figura trovata dai studenti stessi. Abbiamo fatto un lavoro sulle madri costituenti, abbiamo individuato le cinque principali che secondo noi hanno avuto un ruolo un po' più di rilievo, abbiamo fatto una presentazione di queste, riunendole tutte in una presentazione unica. Noi abbiamo fatto un lavoro sulle madri della Costituzione, principalmente Nilde Iotti, dato che c'è stato anche il Centenario, che è una delle donne più importanti, che ha fatto parte della Costituzione. Noi abbiamo principalmente parlato della topononastica femminile, più evidentemente di queste cinque donne della Costituzione, definite madri della Costituzione, e la più importante è Nilde Iotti, che è la più esponente di queste madri della Costituzione, che hanno lottato fino ad ottenere il diritto di voto e poi sono arrivate a essere membri della Costituzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.